Allora, io mi ero svegliato stamattina pensando di fare un video riguardante il post partita ancora sempre di Fiorentina-Napoli perché sotto, insomma, quel video, quei due video, insomma, quello del post partita e la live reaction ci sono state diverse persone che appunto non conoscendomi, non conoscendo noi come siamo, insomma, ci hanno... A parte, vabbè, insulti comunque scendano qui perché alla fine se non conosci una persona personalmente l'insulto sta a zero dando dei razzista, inneggiando che noi li portiamo avanti, che ne so, siamo dei sostenitori del ventennio, insomma, tutte ste menate pacche lasciamo perdere. Meno male non ci conosce sta gente. Oggi, oggi tra l'altro, invece, si parla di una cosa bellissima si parla di lui, si parla di quest'uomo, di quest'uomo. All'undici, all'undici io, mi sono ritrovato il telefono pieno Instagram, pieno, pieno di tutte ste... tutte ste cazzo di notifiche di gente che, insomma, il primo era uno, poi era un 20, poi era un 30 gente che mi parlava di Vlaovic. Perché? Lo sapete, non c'è bisogno, ve lo ripeto, ho messo a parlare, ha parlato chiaramente ha chiaramente detto Vlaovic non rinnoverà, non rinnoverà. Ad oggi Vlaovic non ha rinnovato e non rinnoverà l'ha proprio detto chiaramente. Ho fatto un video una settimana fa dicendo che non ha ancora rinnovato, non si sa ancora in che fa. Cazzo, nemmeno il tempo praticamente di finirlo e adesso commesso ha detto che proprio lui non rinnova Bene, perfetto, fantastico. Praticamente tutto quello che ho detto in quel video e di tutte le previsioni che avevamo fatto per quest'anno tutto a puttane, tutto a puttane. Perché adesso è un problema, perché è ottobre, è ottobre il campionato è iniziato da sette giornate e tutti i piani che avevi per costruire la squadra e la struttura appunto della squadra o l'allenatore, è tutto a puttane, è tutto a puttane. Perché adesso c'hai due opzioni, c'hai due opzioni Cosa fai? Lo fai giocare? Fino a che a gennaio non se ne va in un'altra squadra che può essere i Tottenham tra quelle italiane e la Juve perché non mi venite a parlare di Milan, Inter perché sono indebitate clamorosamente e perché gli attaccanti già ce li hanno mentre la Juve andando via Ronaldo e non Morata non essendo loro perché non l'hanno ancora riscattato, Vlaovic sarebbe l'unico appunto che potrebbe sostituire tra virgolette un possibile Ronaldo come quantitativo di gol annui E se non l'estero? Gente che dice il Tottenham, gente che magari parla anche di altre squadre estere di Premier Ok, però, però, cosa fai? Lo fai giocare fino a gennaio? Lo fai giocare titolare fino a gennaio? Come pensi che possa rispondere la tifoseria? Come pensi possa rispondere la tifoseria? E cosa facciamo in alternativa? Facciamo giocare Cocorin fino a gennaio e poi si pensa a un attaccante che penso appunto che sia la decisione che prenderà la società? O magari che cazzo ne so saponare a falso 9? Cioè, nel senso, non abbiamo tante opzioni, non ci se n'ha praticamente L'ultima opzione che ci sa l'è appunto far giocare Cocorin titolare Cioè, ma perché bisogna veramente farsi di male da noi? Allora, qui in questa vicenda hanno sbagliato tutti, tutti, molto probabilmente per come la penso io personalmente, poi magari fatemelo sapere voi se per voi ho un pensiero diverso Personalmente penso che la società non si sia mossa tempestivamente Quando gli andava rinnovato il contratto, ovvero alla fine dell'anno scorso Alla fine dell'anno scorso già la società doveva avere un contratto Prima che finissi il campionato Dire, oh, te rinnovi per l'anno prossimo, per i prossimi 5 anni Bene E non l'hanno fatto, probabilmente si sono mosse in ritardo Quindi, colpa comunque io gliela do anche un po' alla società Colpa di procuratore, perché tanti procuratori c'è sempre in mezzo E per chi dice che è solo colpa di procuratore, non è vero, è anche colpa di giocatore Perché se il giocatore si impunta e vuole rimanere, non c'è procuratore che tenga Perché si fa sempre l'esempio Donnarumma, per capirsi Donnarumma muore per il Milan, di sicuro, muore di Kennedy per l'altro Ma voleva andare a vincere la Champions di Paris Saint Germain E quindi Raiola, preso e portato a Parigi Uguale Qui si sta parlando di un procuratore che non si sa chi sia Perché è un semi sconosciuto, non è Raiola per capirsi Non è Mendez, non è nessuno praticamente Ma adesso ha tra le mani un talento clamoroso, esploso nella Serie A Che molto probabilmente se ne andrà, secondo me, dalla Serie A Ma con delle tempistiche del cazzo, del cazzo Perché se vogliamo dare, magari, ancora, buttare ancora benzina sul fuoco È stata sbagliata anche la tempistica di questa dichiarazione di commisso Perché le cose va bene Però se te mi fai una dichiarazione così Adesso, in questa maniera, ora Che io so che te la sai di già E quindi comunque te la devi fare, sono d'accordo Ma fammela a dicembre Che io so che va via tanto il mercato di gennaio Non me la fare ora, aspetta due mesi Che almeno la tifoseria, noi, rimaniamo ancora un po' all'oscuro E perlomeno lo possiamo continuare a far giocare Anche se sappiamo che magari lui vorrebbe andare via Ma non ne abbiamo la certezza al 100% E invece, adesso, ci ritroviamo così Che i nostri piani sono completamente saltati all'aria Perché il mercato devi aspettare per forza che lo di gennaio Per comprare un sostituto Perché adesso a te non ti serve un vice Prima si stava pensando a Un cohori, non si sa, magari Non è pronto, non è in forma Via la mezza da fine Via la mezza da fine Via, dai dai cazzo un attimo Via, magari ti serve un vice No, adesso invece te devi prendere un sostituto Il sostituto devi prendere Perché tanto lui va via Non si sa appunto dove va Però va via Sappiamo al 100% Magari va via adesso Cioè nel senso Lui c'è il caso che Tra una settimana Perché appunto adesso Approfittando delle pause della nazionale C'è la Nation League C'è il caso che magari vada già Nel Lido che lui magari vorrebbe aver scelto Senza giocare Se no cosa fai? Lo lasci in tribuna fino a gennaio Lo fai giocare, capito? Cioè Non puoi A mio avviso Per me Per me Per come io conosco la mia città Per come io conosco la squadra Per come io conosco anche le persone in generale Lui non giocherebbe Lui non può giocare Non può giocare Ma non perché Non deve giocare Ma non può giocare Perché la gente Non lo farebbe mai giocare in campo Questo mi mette piede in campo Viene distrutto di fischi Viene distrutto in generale Cioè Non può giocare Piuttosto Cocorin Cocorin titolare Eh per forza È quello che ci sa Non ci sa altro Un ragazzino alla primavera Chi prendi? Monte Anu? Gori? Chi cazzo? No, Gori non c'è più Chi cazzo prende? Non c'è nessuno O Monte Sì O Cocorin O Saponara Se no gioi senza punte Come faceva Iachini Anzi Montella Con Ribery e Chiesa Perché con chi cazzo gioi? Capito? Cioè ti scombina completamente i piani Sta cosa Ed è una cosa stupida È una cosa Cioè estremamente stupida Perché Fatta con le tempistiche sbagliate Si sapeva che non poteva appunto Rimanere E ok Però comunque ti lasciava Ancora quel barlume di speranza Invece adesso te sai che al 99,9% Si leva da coglioni Almeno che non succede Casco un asteroide Vai Vieni Casco un asteroide E in qualche modo rinnova Ci ripensa Magari dice No ragazzi Era tutta una cazzata Ne so Parlava il mio procuratore Cioè Sono cose che non succederanno Di sicuro Perché si sa Funziona così Che poi C'è gente che dice Ah no Mi sta sul cazzo Adesso anche questo Fa come Bernadeschi E chiesa Ma chi se ne frega Se va alla Juve Ma chi se ne frega Tanto se va O va alla Juve O va ai Tottenham O va a dove cazzo gli pare Chi se ne frega Chi se ne frega Perché il contratto Che gli avevi preparato te È un contratto milionario Che più o meno Ti possono dare dalle altre parti Ma Ma Attenzione Perché Oltre a quello Ci avevi messo anche la lausola Che non era 300 milioni Mi fa il Real Madrid E il Barcellona Erano 80 Che per carità Sono tantissimi Ma considerando le cifre Che sono uscite Quest'estate per lui Non sono impossibili Da parte delle altre società Quindi Te che rinnovavi Non saresti Rimasto Vincolato Non saresti Rimasto Vincolato A Firenze Per forza Perché Se arrivava uno Che ne so Il City Con 80 milioni In tasca Messi così Sui banco Commesso di bene Paghi la lausola A posto Bravo Vieni di un attimo Smettila di fare i tiri Da dietro la porta E fa gol Vieni qui Guarda È arrivato il City Te mi sa che tu Te ne vai a casa Perché funziona così Nel mondo del calcio Oggi La clausola serve a quello La clausola Rescissoria Serve a quello Quindi Ci avresti guadagnato te Perché avresti Giocato titolare In una squadra Che sta puntando In questo momento All'Europa E adesso Se te ne vai In un'altra squadra Non giochi titolare Da nessuna parte Perché Pensate alle squadre estere E pensate anche Alla Juventus In questo momento Forse Quella in cui potrebbe giocare Più titolare di tutti E appunto Anche la Juventus Tra tutte Perché tutti ce l'hanno I bomber da 20-25 Gole l'anno E lui andrebbe a fare la panchina Perché puttacasa Anche andasse ai Tottenham Che pensate Che Harry Kane Si mette da parte Per far giocare a Vlaovic No O Harry Kane va via A Gennaia Se ne va in City davvero O se no Vlaovic Il campo lo vede Con il binocolo Lo vede 10 minuti Perché gli fanno l'ovazione A Harry Kane Che è rientrato Dopo una tripletta Dalla panchina Basta E niente E per ora Siamo messi così Ci sa 10 giorni 12 giorni Per rimettere Le cose a posto In squadra E decidere cosa fare Tra virgolette Nel bene Perché c'è la Nation League Se proprio uno Ci deve trovare Un lato positivo Perché io Trovare lati positivi Fa veramente fatica In questa situazione E rimettere un po' A posto le cose Con la squadra Con lui Con l'allenatore Con i tifosi Con la società Con tutti In questo momento Era una cosa Che a noi non serviva L'ho detto anche una settimana fa Nel video appunto Che avevo fatto sempre suo Era una cosa Che in questo momento Non ci serviva Per un cazzo Perché si stava bene Comunque Nonostante si fosse perso Con Napoli Roma Inter Sono squadre Che comunque Ci potevi perdere E stavi facendo Un buon cammino Perché in 7 partite Ci avevi 12 punti E niente Invece adesso Sarà un casino Io sono dell'idea Da adesso Da adesso Almeno succede qualcosa di incredibile Sarà un casino E magari Cocorin si sveglia tutto insieme E fa 25 go Da qui alla fine dell'anno Sarà un casino Perché Vlaovic Titolare Non lo puoi far giocare Firenze non te lo permetterà E niente Fatemi sapere la vostra Sotto nei commenti Anche te sei d'accordo con questa cosa Che ho appena detto In generale Va bene Subito Va bene Quindi Ma non perché lo fischio io Perché si fischia tutti Perché si fischierà tutti Sono dell'area Ma il Fiorentino Marello lo fischierà E anche il Fiorentino non Vedi Capito No ma siamo tutti Della stessa Ma non perché Non perché 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 funziona così Da tutte le parti Mica solo a Firenze E niente ragazzi Fatemi sapere la vostra opinione Sotto nei commenti Voglio veramente sentire Cosa ne pensate voi Cosa fareste voi Perché Ci vorrebbero trovare Mille soluzioni Ma in realtà Ce n'è veramente poche E nulla La soluzione Ecco Mi sorprenderà Minchia bella soluzione Mille soluzione